Benvenuti a Coccobello, puntato del 15 di aprile, che andrà in onda in versione dell'Otta per la serata importantissima, che avremo Corario Pasco, Valentina Diamante e Valentina Garbo da Milano, che saranno live ad un concerto di un gruppo molto affermato, mi sembra si chiamano Dino, non vorrei sbagliare. Ma appunto iniziamo Coccobello, subito lascio a voi questo bellissimo brano, a un Reddit di Dimitri from Paris, di Franky Narwhals, e buon ascolto con Coccobello. Sì. Sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti